svolgerò un esercizio per la gestione di corsi bisogna creare le seguenti classi la classe corso la classe lezione la classe lezione di recupero come sotto classe di lezione allora cominciamo a creare la classe corso un corso ha un nome che una stringa con il nome del corso l'edizione un intero che indica l'anno di erogazione il docente una stringa contenente il cognome del docente poi un array che contiene le lezioni svolte durante il corso inoltre è presente una costante di classe dim che indica la dimensione iniziale dell'array lezioni i metodi devono essere i seguenti tutti i getters e setter il metodo to string due costruttori uno che ha come parametri tutte le variabili di istanza e un altro che ha tutte le come parametri tutte le variabili di istanza ad eccezione delle redirezioni inoltre c'è un metodo durata corso che restituisce la durata del corso in base alle lezioni che lo costituiscono e il prezzo del corso che restituisce il prezzo come sommatoria dei costi di ogni lezione creò quindi il progetto gestione corsi all'interno un package che chiamo posa e all'interno di posa la classe corsi in realtà volevo chiamare la classe corso quindi vi faccio vedere come modificare il nome di questa classe non può essere modificato semplicemente così perché il nome della classe e il nome del file che contiene la classe devono coincidere quindi basta cliccare con il tasto destro del mouse su corsi andare su refactor e poi successivamente su di name cambiando il nome della classe quindi queste sono le variabili distanza di questa classe corso una stringa nome un'intera edizione il nome del docente e poi questo array di lezioni al momento mi dà errore perché la classe lezione non è ancora stata creata inoltre presente questa costante dim che io posto uguale a 5 perché così almeno posso fare un test senza dover inserire troppi dati ora andrò a definire i metodi che sono normalmente presenti in una classe come questa e mi sto riferendo ai costruttori ai get resetter e al metodo to string precisando che mentre i metodi get sono solitamente tutti presenti non sempre è necessario definire tutti i metodi sette io lo farò comunque in questo momento perché non mi cambia nulla ma un metodo set un metodo che potrebbe anche essere evitato qualora non si desiderasse consentire la modifica di qualcuna di queste variabili quindi per questi metodi io mi avvarrò di della metodo di sviluppo integrato del dello strumento che viene fornito dei vari strumenti che vengono forniti per generare automaticamente dei metodi inizio con i costruttori quindi cliccando su source vedete c'è generate constructors using fields per cui creo il primo costruttore con tutti i parametri omettendo però la chiamata al costruttore della super classe super perché in questo momento non ce ne bisogna visto che la super classe di corso e la classe object l'ho inserito nel punto sbagliato nessun problema correggiamo subito poi naturalmente mi dà sempre errore a causa della mancanza della classe lezioni lezione poi vado a creare l'altro costruttore con le stesse modalità solo che tolgo lezioni poi vado a creare i metodi get set generate getters and setters seleziono solo docente edizione lezioni e nome non c'è bisogno di considerare anche dim poiché è public quindi è possibile andare a leggere il suo valore e non modificarlo perché una costante ecco qua i vari metodi get set e infine il to string se vogliamo che compaia non solo il nome della classe con il to string vi ricordo che il to string serve per stampare un oggetto ossia per poter vedere il contenuto il valore delle sue variabili distanza per come costruito se invece di avere solo il nome corso vogliamo il nome completo compreendente anche il nome del package allora possiamo andare a scrivere qui get class punto get name prima di ragionare su questi due metodi durata corso e prezzo corso creiamo la classe lezione la classe lezione ha le seguenti proprietà un numero che è un intero che indica il numero della lezione il titolo una stringa la durata in ore il costo orario e poi un booleano che ci dice se è già stato erogato oppure no se è stata erogata questo booleano deve valere true sempre nello stesso package aggiungo la classe lezione quindi la classe lezione ha queste variabili che vedete variabili private adesso vado a creare i metodi che sono richiesti cioè i get i setter il to string il costruttore con avente come parametri tutte le variabili distanza e poi ci occuperemo anche di costo lezione esattamente come ho fatto percorso creato anche per la classe lezione il costruttore il metodo get set set e il metodo to string manca il metodo costo lezione questo metodo public restituisce un double perché viene calcolato come costo orario per durata quindi un double double per un int restituisce un double dunque il metodo si chiama costo lezione costo lezione non c'è bisogno di alcun parametro perché i dati che servono a questo metodo sono già presenti nella classe quindi devo solo restituire il costo orario per la durata per durata tornando corso adesso si vede che non c'è più alcun errore su questo array di lezioni nella classe corso devo definire questo metodo durata corso che mi deve restituire la durata del corso in base alle lezioni che lo costituiscono ma lezione a questa variabile distanza questa proprietà durata quindi io ho un array di lezioni ogni lezione ha una durata per cui se faccio la somma delle durate di tutte le lezioni ottengo la durata del corso supponiamo che l'array di lezioni sia per un dato corso sia questo cioè abbiamo due lezioni e poi il resto dell'array invece contiene dei valori null perché questo corso ha solo due lezioni quindi per poter andare a realizzare questo metodo che è il metodo qua ce l'abbiamo qui durata corso è indubbio che io devo andare a fare una operazione ciclica però bisogna fare attenzione a non confondersi sul tipo di ciclo da utilizzare per esempio un foro un ciclo foro che fa una scansione completa di questo array sarebbe superfluo perché noi non dobbiamo fare una scansione completa ma fermarci non appena troviamo un valore nullo e allora possiamo decidere di utilizzare un ciclo con condizioni in testa quindi un while oppure un ciclo con condizioni in coda un do while adesso ragioneremo su quale sia più opportuno io direi che è meglio utilizzare un while poiché nel ciclo while si entra solo se la condizione del ciclo è vera e quindi nel caso in cui questo array fosse completamente pieno di valori nulli cosa che magari potrebbe accadere per errore o per qualche motivo particolare allora in questo caso andremmo a evitare un'eccezione invece con un ciclo do while le istruzioni del ciclo vengono eseguite almeno una volta quindi potremmo incorrere in un errore inoltre quindi metteremo una condizione di terminazione che faccia uscire dal ciclo quando si incontra un valore nullo oppure quando si arriva alla fine di questo array mettendo però come prima condizione il controllo sulla uscita dall'array la logica dell'algoritmo per calcolare la durata del costo è quindi la seguente fino a quando non sei arrivato alla fine del vettore non hai incontrato valori nulli prendi in considerazione la lezione che si trova all'indice corrente che all'inizio sarà 0 vai a prendere la durata della lezione aggiungila ad una variabile che funge da sommatore poi spostati con l'indice del array sulla posizione successiva verifica nuovamente di non essere arrivato alla fine del vettore dell'array e di non avere un valore nullo se queste due condizioni sono contemporaneamente verificate allora prendi di nuovo la lezione all'indice corrente vai a prendere la durata, aggiungila al suonatore e così via non appena si trova un valore null se esiste si termina se invece non ci sono valori nulli si termina perché si è arrivati alla fine dell'array questo metodo pertanto restituisce il metodo durata corsa restituisce un intero non ha bisogno di parametri perché tutto ciò che occorre cioè il array di lezioni si trova già all'interno di questa classe e abbiamo bisogno di una variabile sommatore che contenga il totale delle ore delle lezioni quindi la somma delle ore delle lezioni per cui dichiariamo una variabile locale int somma oppure se possiamo chiamarla anche durata e la inizializziamo a 0 definiamo anche un indice i il cui valore iniziale è 0 che è l'indice che si sposta quindi su ogni elemento dell'array questa è la condizione di terminazione del ciclo cicliamo fino a quando i è minore della dimensione dim del vettore e fino a quando l'elemento lezioni di indice i è diverso da null non appena una di queste due condizioni diventa falsa terminiamo l'esecuzione del ciclo dentro il ciclo dobbiamo fare due operazioni andare a prendere la durata della specifica lezione quella appunto individuata dall'indice i e aggiungerla alla variabile durata quindi durata più uguale ecco bisogna fare attenzione adesso ad una cosa perché non possiamo scrivere lezioni con indice i punto durata non possiamo perché e mi ha già sostituito tutto Eclipse allora io volevo far vedere che non possiamo scrivere qua durata perché la variabile distanza durata è una variabile privata di lezione e noi invece siamo nella classe corso quindi durata non è accessibile né in lettura né in scrittura difatti vedete viene segnalato che the field lezione punto durata is not visible pertanto dobbiamo utilizzare per accedere alla questa variabile il metodo get durata poi dobbiamo incrementare l'indice i qui viene segnalato un errore perché il metodo deve restituire il valore intero corrispondente alla durata quindi come ultima operazione restituiamo durata per quanto riguarda il metodo prezzo corso il ragionamento è analogo perché bisogna andare su ciascuna lezione farsi restituire il costo della lezione e aggiornare una variabile che contiene appunto il costo complessivo e poi restituirlo quindi siamo in una situazione analoga a questa ma naturalmente dobbiamo cambiare questa istruzione ecco qui il metodo restituisce un double perché il prezzo ovviamente è in double è un double perché è in euro poi abbiamo una variabile prezzo che è sempre un sommatore una variabile che contiene la somma dei prezzi aggiornata di volta in volta sempre questo indice i per spostarsi sull'array la condizione rimane la stessa e qui aggiorniamo ogni volta che accediamo un elemento di lezioni andiamo a calcolare il costo della lezione utilizzando il metodo costo lezione lo aggiungiamo a prezzo ci spostiamo e continuiamo quando usciamo dal ciclo restituiamo il prezzo la classe recupero estende la classe lezione per questa classe che ha queste variabili di distanza dobbiamo creare un costruttore recupero che deve avere come parametri gli stessi parametri dei costruttori del costruttore della classe lezione perché deve passarli al costruttore della classe lezione quindi i parametri del costruttore della classe lezione sono questi li copio così faccio prima e li vado a inserire qui poi in più ha due parametri che poi conterranno in fase di creazione dell'oggetto i valori delle due variabili di distanza recupero e studente quindi bisogna ancora aggiungere il booleano recupero e l'intero studente intero perché il numero di matricola la prima istruzione di questo costruttore deve essere la chiamata esplicita quindi al costruttore della super classe passando come parametri il numero il titolo la durata il costo orario e poi la variabile booleana cioè il valore della variabile booleana erogata dopo di che possiamo andare ad assegnare a queste due variabili di distanza i valori dei parametri quindi a dis.recupero assegniamo recupero e a dis.studente e a dis.studente assegniamo studente ora completo la classe con i get set e col to string come richiesto select on e poi to string dove vado sempre a sostituire ma non è obbligatorio il nome della classe con get class punto get name per avere il nome completamente specificato tutte le classi sono state create adesso dobbiamo creare invece un'ulteriore classe all'interno di un nuovo package main che si chiama gestione corsi questa classe deve presentare all'utente un menu di opzioni che consentano di creare un corso di aggiungere una lezione a un corso esistente di aggiungere una lezione di recupero a un corso esistente oppure di terminare l'applicazione viene inoltre richiesto di mantenere un array dinamico un array list all'interno del quale andare a memorizzare i vari corsi creati e questa classe inoltre deve avere un metodo main che presenta ciclicamente ripresenta questo menu di opzioni fino a quando l'utente non decide di terminare vediamo che c'è questa annotazione se necessario definire ulteriori metodi per le classi è necessario secondo me sì soprattutto per questa operazione aggiungi lezione perché questa operazione di aggiungere una lezione che coinvolge l'array all'interno di corso dovrebbe essere un metodo di corso quindi vado a definire questo nuovo metodo il metodo aggiungi lezione ha come parametro la lezione che bisogna aggiungere all'array lezioni e per il momento insomma non sembra necessario restituire alcun che quindi mettiamo void come tipo restituito però questo metodo deve tener conto di una cosa importante ossia possiamo aggiungere una lezione a questo array solo se c'è ancora posto e se c'è posto bisogna inserirne il primo posto libero quindi bisogna cercarlo allora una prima soluzione è quella di andare ogni volta a fare un ciclo fino a quando si trova la prima posizione libera dopo aver naturalmente verificato che il posto ci sia ancora oppure si può agire anche in un modo diverso ossia si potrebbe andare a mantenere una variabile che memorizza il numero di lezioni presenti all'interno dell'array e aggiornarla ogni volta che si aggiunge una lezione questo implica naturalmente che quando si crea il corso o non aggiungiamo nessuna lezione e quindi incrementiamo di volta in volta solo ogni volta che aggiungiamo una lezione oppure bisogna avere questa informazione sul numero di lezioni già presenti in fase di creazione del corso per poter impostare questa variabile scelgo di utilizzare di nuovo un ciclo come questo come questo while quindi qua non serve prezzo ovviamente non dobbiamo aggiornare nessun prezzo cosa faccio? faccio questa operazione inizio a fare la scansione dell'array e vado avanti fino a quando o trovo un valore nullo oppure esco fuori dall'array quindi vado a incrementare questo indice fino a quando la condizione diventa falsa uscendo da questo ciclo while devo capire se sono uscita perché ho trovato un valore nullo e quindi c'è posto per inserire oppure se sono uscita perché non c'è più posto e quindi i è diventato uguale a dim per cui ho bisogno di fare un controllo con un if if i è minore di questa dimensione allora vuol dire che ho trovato un posto dove inserire quindi posso andare ad aggiungere la lezione nella posizione i dell'array lezioni lezioni con indice i assegna la lezione altrimenti ecco qua adesso si pone il problema dell'altrimenti perché non posso da qui fare un'operazione di output quindi andare a segnalare che non c'è più posto per inserire quindi devo fare prendere una decisione di tipo diverso che potrebbe per esempio essere la restituzione di un valore che mi consente di capire che consente di capire al chiamante se l'operazione è andata a buon fino oppure no allora scelgo come valore da restituire un booleano ma si poteva anche fare una scelta diversa utilizzo quindi una variabile ehm anzi scusate non utilizzo nessuna variabile semplicemente nel caso in cui la dimensi meno della dimensione restituisco true intendendo con ciò che l'operazione è andata a buon fine altrimenti restituisco false dovrà poi il chiamante verificare che tipo di risultato restituisce questo metodo vado ora a creare il package main main app non so come si chiama non mi ricordo come si chiamava vediamo main package main all'interno del quale creo la classe gestione corsi con il metodo main devo definire un array list all'interno del quale memorizzare i corsi creati non c'è bisogno di definire questa variabile come variabile della classe gestione corsi ma può essere una variabile locale al main definisco quindi l'array corsi che è un array list contenente degli oggetti di tipo corso devo importare tutte queste classi array list e anche corso come richiesto ho creato un ciclo do while all'interno di questo ciclo ho utilizzato una finestra di dialogo di input che presenta queste opzioni crea corso aggiungi lezione aggiungi recupero termina e dove termina è la prima opzione visibile questo è il titolo della della finestra gestione corsi e questo il messaggio che appare all'utente l'utente quando fa una selezione quindi quando sceglie uno di queste opzioni l'opzione va a finire dentro questa variabile che è una stringa definita fuori dal ciclo do while perché poi deve essere utilizzata nella condizione di terminazione di questo ciclo che è la seguente not opzione qua è sbagliato perché viene proposto in automatico da Eclipse ma il metodo corretto equals quindi not opzione punto equals termina quindi fino a quando l'opzione scelta è diversa da termina si continua a ciclare quando l'utente sceglie termina si esce dal ciclo all'interno del ciclo ho scritto questa istruzione switch che controlla la variabile opzione adesso per ogni opzione andiamo a creare il corrispondente case quindi case crea corso due punti e qua dovremo andare a scrivere le istruzioni quindi il codice di crea corso e poi per interrompere l'esecuzione dello switch quindi non eseguire case successivi deve introdurre un break quindi faccio la stessa cosa per ogni opzione quindi per ogni opzione come dicevo dobbiamo andare a scrivere il codice non di crea corso ma di aggiungi lezione il codice di aggiungi recupero e solo nel caso in cui l'utente scelga termina visualizziamo una finestra di dialogo di messaggio con il messaggio è terminato il programma possiamo anche testare il programma già ecco questo è il menu di opzioni se scegliamo una qualunque opzione diversa da termina non succede niente scegliendo termina terminiamo il programma ora potrei scrivere qui il codice per creare il corso qui il codice per raggiungere la lezione eccetera eccetera invece adotterò un'organizzazione diversa del codice utilizzerò cioè dei metodi statici che effettuano ciascuna operazione iniziamo con crea corso quindi vado a definire questo metodo all'interno della classe gestione corsi fuori dal main ovviamente che chiamo crea corso e qui dove c'è scritto codice di crea corso richiamo questo metodo crea corso quindi scrivo crea corso creare un corso creare un corso significa creare un'istanza di corso un'istanza della classe corso utilizzando o il costruttore che prevede anche che venga passato l'array di lezioni oppure utilizzando il costruttore che crea il corso senza senza alcuna lezione quindi vediamo le due possibilità dopo aver creato il corso occorre andare ad inserirlo all'interno dell'array corsi per creare il corso ho la necessità di fare una serie di operazioni di input output e quindi di interagire con l'utente per sapere il nome del corso l'edizione il docente ed eventualmente quali sono le lezioni che sono già state previste il metodo crea corso quindi instaura un dialogo con l'utente chiede il nome del corso l'edizione del corso il cognome del docente e poi c'è un ciclo do while che consente all'utente di inserire il numero di lezioni di specificare il numero di lezioni l'utente può specificare 0 e quindi a quel punto non verranno inserite lezioni oppure un numero al massimo uguale a 5 quindi questo ciclo do while controlla che l'utente non inserisca numeri non validi possiamo già testarlo se scelgo crea corso mi chiede di inserire il nome del corso l'edizione il nome del docente e poi quante lezioni vuoi inserire se specifico un valore non consentito per esempio 6 mi viene fuori un messaggio che mi dice che il numero deve essere compreso tra 0 e 5 e a quel punto posso inserire il numero corretto e il programma procede adesso annulliamo e vediamo e vediamo cosa bisogna fare per creare l'array di lezioni nel caso in cui l'utente abbia indicato un valore superiore a 0 se il numero di lezioni inserito dall'utente è maggiore di 0 con un cicloforo andiamo a popolare l'array lezioni quindi dovremmo creare un specifico array di lezioni poi andare a inserire dentro tutte le varie lezioni chiedendo di nuovo all'utente di inserire i vari valori necessari se il numero di lezioni inserite dall'utente è maggiore di 0 prima di iniziare questo cicloforo per valorizzare l'array dobbiamo creare l'array di lezioni solo che si pone il problema di sapere la dimensione di questo array beh la dimensione dovrà essere uguale a quella che troviamo qua nel corso deve essere 5 quindi supponiamo che si sappia che queste lezioni devono essere per ogni corso al massimo 5 è un vincolo ovviamente non esistente nella realtà però facciamo finta che sia così e allora per questo motivo posso dichiarare all'interno della classe se c'è se ne corsi una costante intera dim che vale 5 e utilizzarla quindi qui per creare l'array questo array lezioni è un oggetto e quindi contiene tutti i valori null per cui andremo a inserire le lezioni fino a num lezioni e poi tutto quello che rimane quindi che non contiene tutti gli elementi che non contengono delle lezioni avranno valore null quindi all'interno del for chiediamo di inserire il titolo della lezione la durata il costo orario della lezione e poi utilizzo una finestra di dialogo di opzione che consente all'utente di scegliere se la lezione è già stata erogata oppure no se l'utente risponde sì in questa variabile opzione ci sarà 0 altrimenti ci sarà 1 pertanto subito dopo vado ad assegnare alla variabile boolean erogata true se opzione vale 0 false altrimenti provando ad eseguire vediamo cosa succede scelgo gra corso nome del corso eccetera eccetera lezioni ne inseriamo solo una per provare titolo della lezione durata della lezione in ore costo orario della lezione e poi mi chiede la lezione è già erogata perché supponiamo che un corso magari venga inserito non prima dell'erogazione ma magari un giorno dopo qualche ora dopo quindi potrebbe anche succedere che la prima lezione sia già stata erogata quindi clicco su sì e poi ovviamente continuo quindi siamo arrivati quasi alla fine di questo if se il numero di lezioni maggiore di zero abbiamo acquisito tutti i dati possiamo creare l'istanza di lezione da inserire nell'array lezioni ora che ho tutti i dati posso creare l'istanza della lezione e assegnarla andarla a inserire all'interno di questo array in quale posizione? nella posizione indicata da questo indice i quindi a lezioni con indice i assegno questo oggetto questa istanza che creo come appunto utilizzando il costruttore di lezione non c'è bisogno di assegnare un nome a questo oggetto è un oggetto anonimo e in realtà il nome ce l'ha è questo lezioni con indice i il primo parametro non l'ho chiesto in input all'utente il primo parametro è il numero della lezione perché posso numerarla in automatico sfruttando questo indice i quando inserisco la prima lezione i vale zero e quindi posso inserire come numero della lezione i più uno e così via quando inserirò la seconda lezione i varrà uno e quindi il numero della lezione sarà due e così via successivamente devo andare a creare l'istanza di corso e aggiungerla all'arraylist che ho dichiarato nel main a questo punto sorge un problema perché l'arraylist corsi è all'interno del metodo main e non è visibile invece da questo metodo che si chiama crea corso quindi ci sono due possibili soluzioni la prima consiste nell'andare a dichiarare questo arraylist come variabile di classe è un po' come se fosse una variabile globale ma a livello di classe comunque condivisa da tutti i membri di questa classe non è una scelta tra le migliori l'altra possibilità è quella di utilizzare i valori di ritorno quindi invece di far restituire questo metodo void cioè nulla possiamo fare restituire l'istanza della classe corso che andiamo a creare qui anche in questo caso non ho bisogno di assegnare un nome particolare a questa istanza ma basta andare a restituire immediatamente l'oggetto però per maggiore chiarezza andrò a creare proprio un'istanza della classe corso quindi prima di far restituire corso dobbiamo ancora occuparci di un'altra questione e se il numero di lezioni che inserisce l'utente è pari a zero cioè l'utente vuole creare il corso ma non ha ancora lezioni da inserire e allora siamo qui all'end dell'if e dobbiamo andare a decidere cosa fare se l'utente non crea lezioni niente di più semplice andiamo a creare sempre un'istanza della classe corso e utilizzeremo per creare questa istanza il costruttore senza le lezioni ora possiamo restituire corso però c'è ancora un problemino corso non è visibile perché è dichiarato all'interno di questi blocchi se scrivo corso vedete che mi da errore quindi devo spostare, dichiarare corso all'esterno di questi blocchi quindi ho tolto via il tipo qui, corso da queste variabili, da questi punti ho dichiarato corso qui cambio il tipo restituito dal metodo il metodo restituisce un oggetto corso e poi a questo punto non ho più errori quando faccio un retorno di corso prima di procedere, siccome vorrei verificare l'oggetto che ho creato se è corretto devo fare una modifica al metodo toStringed corso perché il metodo toStringed corso stampa solo il nome, l'edizione e il docente restituisce solo il nome, l'edizione e il docente quindi voglio invece anche aggiungere l'array di lezioni che sarà eventualmente nullo quindi vado ad aggiungere qui l'array di lezioni per stampare questo array utilizzo il metodo toStringed che mi permette di stampare l'array specificato tra parentesi tonde un'ulteriore modifica va fatta qui dove viene richiamato il metodo crea corso perché siccome restituisce l'oggetto creato allora lo andiamo a memorizzare all'interno di questa variabile poi solo per scopi di debug vado a stampare anche l'oggetto per vedere che cosa è stato creato quindi possiamo provare ad eseguire vediamo che cosa accade crea un corso nome del corso informatica prima edizione cognome pallino numero di lezioni mettiamone due vediamo cosa succede titolo della lezione PHP durata della lezione 2 ore costo 40 supponiamo che la prima lezione sia già stata erogata poi seconda lezione Java tre ore la durata sempre mettiamo 40 facciamo un po' di giustizia lezione erogata no e poi terminiamo ok e vediamo che cosa ci che cosa ha creato il programma ha creato il corso dal nome informatica edizione 1 docente pallino e poi l'errei di lezioni la numero 1 e poi la numero 2 e le ulteriori lezioni sono nulla perché non sono state ancora create e potranno essere aggiunte successivamente ora dobbiamo occuparci di aggiungi lezione l'utente deve scegliere il corso e poi aggiungere la lezione ora per scegliere il corso bisognerebbe sarebbe bello proporre un menu dove lui vede tutti i corsi che in quel momento sono disponibili allora proviamo a fare a costruire questa cosa partendo dalla costruzione di un array di stringhe prelevandole da questo array list corsi quindi iniziamo a creare un array di stringhe prendendo solo i titoli dei corsi ed eventualmente l'edizione adesso lo vediamo e poi creeremo un menu simile a questo dove l'utente non si potrà sbagliare nell'andare a scegliere un corso che magari non esiste siccome questo array di nomi di lezioni servirà anche per la funzionalità aggiungi recupero preferisco creare un metodo che mi va a costruire dinamicamente questo array prima di procedere mi sono accorta di aver dimenticato una cosa importante nel caso crea corso nel case crea corso non basta creare il corso ma bisogna anche aggiungerlo al array list corsi quindi per aggiungerlo al array list corsi si utilizza il metodo add scrivendo corsi.add e tra parentesi tonde il corso in questo modo il corso viene aggiunto al fondo dell'array dunque vediamo allora come creare questo menu di corsi questo metodo restituisce un array di string a un parametro che è l'array list di corsi perché non può accedervi visto che è definito come variabile locale all'interno del metodo main quindi bisogna passarglielo come parametro e crea un array di string di nome menu di dimensione pari alla dimensione al numero di corsi inseriti in questo array list e poi con questo ciclo for each va a prendere tutti gli elementi che sono contenuti all'interno di questo array corsi ogni elemento viene assegnato questa variabile che è una variabile locale a questo blocco for che è di una variabile di tipo corso quindi all'interno del ciclo al menu di indice i i è questo indice che si incrementa ad ogni interazione viene assegnato il nome del corso concatenato a questa stringa edizione concatenato a corso punto get edizione quindi praticamente avremo il nome il nome del corso seguito dal nome dell'edizione poi il metodo restituisce il menu ora passiamo a definire il metodo aggiungi lezione questo metodo di nuovo deve avere un parametro che viene passato dal chiamante che è sempre l'erre di corsi costruisce questo menu di opzioni che specifica le varie i vari corsi che sono stati attivati difatti questo menu è simile a quello che abbiamo visto in precedenza con la differenza che l'erre non è indicato con tutti i suoi elementi ma viene costruito richiamando proprio il metodo menu corsi dopo che l'utente ha scelto il corso in cui inserire una lezione viene richiesto all'utente di inserire il titolo della lezione la durata il costo orario eccetera poi di nuovo si chiede se la lezione è stata già erogata oppure no esattamente come abbiamo fatto in precedenza l'utente quindi ha scelto il corso peccato che io ho solo il nome concatenato ad edizione concatenato al numero dell'edizione ma non ho l'oggetto e se devo aggiungere una lezione a quell'oggetto devo prima trovarlo allora con questo ciclo while con questa condizione vado proprio a cercare il corso che contiene che ha quel titolo contenuto all'interno di quella stringa presente nel menu quindi itero o fino a quando non esco fuori dall'array quindi in questo caso non sono uscito a trovare quel corso ma è molto difficile che questo si verifichi visto che presento all'utente un menu di opzioni che dove non ci sono errori perché sono quelli i corsi però è sempre bene controllare quindi fino a quando sono all'interno dell'array e ecco questa espressione è un po' complicata allora che cosa fa questa espressione va a verificare se il nome del corso che si trova nella posizione i questo metodo get i per gli list restituisce l'elemento nella posizione i è uguale uso il metodo equals perchè lavoriamo con le stringhe a che cosa? allora scelta corso è la scelta che è stata fatta dall'utente in questo menu dove appunto ha selezionato il corso che gli interessava quindi è una stringa scelta corso per esempio nome del corso che ne so informatica o java è seguito da edizione seguito dal numero dell'edizione utilizzo il metodo scritto della classe string che mi consente di andare a separare una stringa sulla base dell'espressione inserita quattro parentesi specificata quattro parentesi quindi significa che questo metodo mi crea un array di sottostringhe vediamo qua dovrebbe esserci un esempio guardate inserendo questa stringa con separatore due punti se si fa uno split su due punti vengono create tre stringhe quindi viene restituito un array costituito da tre stringhe dalle quali è stato tolto il separatore quindi in questo nel nostro caso verrà restituito un array contenente due stringhe che sono da una parte il nome dall'altra parte il l'edizione questo metodo trim toglie via gli spazi che si trovano prima o dopo le stringhe in modo tale che ci sia un match effettivo perché a volte uno spazio in più o in meno fa sì che questo confronto fallisca a questo punto pertanto andiamo ad estrarre il primo elemento di questo array che coincide con il nome del corso e lo confrontiamo con il nome del corso che stiamo esaminando e che si trova nella posizione i del array list corsi fin tanto che non lo troviamo andiamo avanti quando usciamo da questo ciclo qua ci sono delle stampe solo per il debug poi andrò a cancellarle allora se siamo usciti perché abbiamo trovato una corrispondenza allora a questo questa variabile corso assegniamo corsi.geti cioè stiamo estraendo il corso da questo array di corsi quindi l'abbiamo assegnato questa variabile e poi andiamo ad aggiungere a corso la lezione utilizziamo quindi il metodo aggiungi lezione di corso questa però incontriamo un ulteriore problema perché non sappiamo qual è il numero da assegnare alla lezione visto che sempre per complicarci la vita abbiamo deciso di generare automaticamente il numero della lezione quindi bisogna fare qualche modifica prima di occuparci delle modifiche comunque osserviamo che questo questo metodo il metodo aggiungi lezione restituisce un booleano quindi se trova il corso e può inserire la lezione e richiama quindi il metodo aggiungi lezione restituirà quello che il metodo aggiungi lezione restituisce a sua volta ricordo che questo metodo nel caso in cui non ci sia più spazio per raggiungere una lezione restituisce false altrimenti restituisce true invece se qualcosa va storto restituisce false quindi il chiamante sarà in grado poi in base al valore restituito di capire se la lezione è stata inserita o meno dunque una soluzione qua potrebbe essere di lasciare il compito di inserire il numero della lezione alla classe corso però per far questo significa che noi dobbiamo qui o inserire null oppure creare un ulteriore costruttore nella classe lezione che non abbia il come parametro il parametro che contiene il numero della lezione quindi farò questa questa seconda cosa andrò a creare un nuovo costruttore nella classe lezione ecco il secondo costruttore della classe lezione senza questo parametro numero quindi qui non mi devo più preoccupare del numero della lezione tolgo via il primo parametro ora tornando qui io ho questo indice dove vado a inserire la lezione quindi so che il numero della lezione è uguale a questo i più uno e quindi dovrei solo andare a utilizzare il metodo set numero della lezione adesso non mi ricordo come si chiama set numero per andare impostare il numero della lezione che manca per cui basta aggiungere qua a lezione lezioni con indice i punto set numero e passiamo come come numero i più 1 ora vediamo se tutto funziona prima di provare ad eseguire per verificare che tutto funzioni correttamente qua in aggiungi lezione vado a richiamare il metodo aggiungi lezione che questo metodo statico che ho definito più sopra passo il parametro corsi questo metodo mi restituisce un booleano come ho detto prima quindi se il metodo mi restituisce false allora devo produrre in output un messaggio tipo questo qualcosa è andato storto altrimenti non comunico alcunché all'utente e faccio solo una stampa per il debug per vedere se effettivamente la lezione è stata aggiunta proviamo lancio l'applicazione e creo un corso corso di inglese edizione del corso 1 cognome paolini inseriamo una sola lezione per brevità il titolo della lezione past simple supponiamo che duri 3 ore costo orario della lezione 50 lezione già erogata mettiamo sì e qua sotto vedete la lezione all'interno del corso di inglese adesso vado a recuperare la finestra di dialogo che è finita qui aggiungo una lezione e mi fa vedere adesso c'è solo un corso comunque mi propone l'elenco dei corsi scelgo l'unico esistente inserisco il titolo della nuova lezione present la durata della lezione supponiamo 2 ore costo orario della lezione sempre 50 lezione già erogata no andiamo a vedere che cosa è successo nel frattempo allora la prima stampa vedete comprendeva solo la lezione 1 e nella seconda invece abbiamo anche la lezione numero 2 per quanto riguarda il recupero si procede in modo analogo andando a definire un metodo statico aggiungi recupero e questo metodo funziona più o meno come aggiungi lezione con la differenza che deve anche acquisire in input il recupero c'è stato e lo studente che ha recuperato ma questo ovviamente solo se la lezione è già stata erogata perché altrimenti non è necessario chiedere queste informazioni dopodiché una volta individuato il corso con quel particolare nome selezionato e di nuovo viene inserito viene creata un'istanza di recupero e poi viene inserita utilizzando il metodo aggiungi lezione della super classe di recupero quindi della classe lezione ho dovuto anche aggiungere un costruttore alla classe recupero un costruttore che fosse privo del numero della lezione in modo tale che fosse possibile inserirla automaticamente che fosse poi corso a inserirla quindi dentro corso ricordo che viene anche impostato il numero della lezione in automatico e poi sempre in recupero ho dovuto leggermente modificare il metodo toString affinché riportasse anche i dati che sono presenti nella super classe ora procedo a un test per verificare che tutto funzioni un po' lungo ma ne vale la pena quindi creo un primo corso informatica prima edizione cognome Pollino inseriamo due lezioni il titolo della prima lezione PHP 3 ore la durata costo orario 50 supponiamo che sia già erogata poi un'altra lezione java 4 ore e così via inserisco dei valori a casa lezione già erogata no ora vado ad aggiungere un altro corso quindi il nome del corso inglese edizione 1 cognome cognome lina una lezione titolo della lezione past simple un 3 ore la durata costo orario 40 lezione già erogata no e possiamo vedere che qua ci sono quindi i vari i vari corsi abbiamo il corso inglese e poi abbiamo il corso di informatica con le varie lezioni ora vado ad aggiungere una lezione e vedete che mi proponi due corsi scelgo il corso che mi interessa aggiungo una lezione a informatica bootstrap durata 4 costo orario 50 lezione già erogata no e potete vedere che adesso è stato aggiunto è aggiunta la lezione numero 3 al corso di informatica poi vado ad aggiungere una lezione di recupero sempre informatica titolo della lezione recupero PHP durata della lezione 2 ore costo orario 20 lezione già erogata supponiamo di sì lo studente recuperato sì la matricola dello studente 1200 ok vedete che adesso a informatica è stata aggiunto anche il recupero lezione numero 4 proviamo ancora ad aggiungere una lezione la lezione numero 5 sempre informatica quindi ok titolo della lezione HTML metodo di valori a caso ovviamente lezione già erogata no e poi e poi vado ad aggiungere ancora una lezione sempre al corso di informatica titolo della lezione non lo so non lo so c sharp durata 3 costo 55 lezione già erogata sì e vedete che mi dice che qualcosa è andato storto quindi quindi non è stato possibile inserire la lezione perché l'array delle lezioni era già pieno ovviamente questo comportamento è assolutamente da evitare oltretutto dovrebbe essere subito segnalato che non si può inserire la lezione e non far inserire all'utente tutti i dati per poi dirgli che non è possibile creare una nuova lezione quindi si tratta di un'esercitazione e questo comportamento va sicuramente modificato magari lo vedremo successivamente